Due punti in quattro partite, la Juventus non dà l'addio soltanto al sogno dello scudetto, ma rischia adesso anche di non arrivare seconda in campionato. Due punti in quattro partite in cui Allegri ha fallito nella sua missione, che era quella di continuare a motivare, a tenere forte l'entusiasmo e l'autostima della squadra. Allegri aveva detto una cosa anche simpatica, intelligente, circa un mese fa, cioè prima di questo momento orribile, calcisticamente parlando della sua squadra. Allegri aveva detto che dobbiamo cercare di rendere possibile l'impossibile, cioè di vincere lo scudetto, qualcosa che sembrava impossibile. Invece di rendere possibile l'impossibile, lui sta rendendo esattamente l'opposto, cioè dovrebbe semplicemente rendere possibile ciò che è possibile alla Juventus, vale a dire battere l'Empoli, battere l'Udinese e battere il Verona, perché è di questi 12 punti a disposizione. Se possiamo dire ragionevolmente che a San Siro con l'Inter non c'erano speranze, altrettanto ragionevolmente era lecito supporre che con due partite in casa e una in trasferta, la Juventus come minimo facesse 7 punti, non 2 punti. E la Juventus, che era in questo momento a meno 10, rischia di andare a meno 15, a meno 16 nel giro di una settimana dall'Inter. Insomma, è una situazione insostenibile che evidentemente ha delle colpe nell'allenatore, che tanti meriti aveva avuto nel portare la Juventus a ridosso di una squadra fuori serie, come l'Inter, perché è evidente che in questo campionato l'Inter sia fuori serie, è evidente che anche in Europa in questo momento sia una squadra che ha pochi rivali, non dico che non abbia rivali, ma che ha pochi rivali, poi vedremo naturalmente martedì nella partita con l'Atletico di Madrid, che comunque si è ripreso, ha vinto 5-0 il campionato. Rimaniamo alla Juventus, quindi evidentemente c'è una squadra che non crede più in se stessa e qui è l'allenatore che evidentemente sbaglia nelle sue motivazioni, non riesce più a tenere in pugno l'entusiasmo, l'autostima di una squadra che proprio sull'entusiasmo e sull'autostima era riuscita a fare delle cose al di sopra dei propri mezzi. Adesso siamo invece ampiamente al di sotto dei mezzi della Juventus e questo chiama in causa evidentemente Allegri. Non è l'unica ragione, così come abbiamo detto bravo Allegri quando stavi andando così forte, adesso dobbiamo dire male Allegri che stai vedendo la squadra che si è sfaldata di testa, perché abbiamo visto a Verona una Juve sfaldata proprio a livello di concentrazione, fatalista, che sembra quasi rendere inevitabile il gol che ancora non è nemmeno nell'aria. E qui dobbiamo però entrare sul discorso dei singoli, perché le crisi non hanno spiegazioni semplici, sono sempre ragioni complesse che portano a una crisi, nel calcio come nella vita, e in questo caso non fa eccezione, cioè non basta dire togliamo Allegri, mettiamo chiunque e la Juventus comincerà a vincere, diventerà una squadra straordinaria, bella, vincente, vince il campionato. Non sarà così, bisogna che se lo mettono in testa i tifosi anche più esacerbati contro Allegri. Non è che abbiano torto, l'esperienza di Allegri nella Juventus, siamo il terzo di quattro anni, è un'esperienza negativa, questo va detto. La squadra non è mai andata al di là dei propri limiti, è stato bravo l'anno scorso quando è riuscito a tenere insieme una società che si era ormai disgregata con le inchieste, le dimissioni, la mancanza di dirigenti. Ma se poi dobbiamo andare ad analizzare i risultati ottenuti finora da Allegri, sono stati non all'altezza delle previsioni e delle possibilità della Juventus, perché uno straccio di Coppa Italia la potevi anche vincere, vedremo se ce la farà quest'anno. E in questo caso dovremo magari correggere il giudizio che stiamo dando attualmente. Ma detto tutto questo, detto del fatto che Allegri ha delle responsabilità, non possiamo dimenticare che comunque ci sono dei calciatori, che sono diventati davvero giocatori non dei punti di forza, ma dei punti di debolezza della squadra. E rispetto al ruolo che dovrebbero assumere all'interno della squadra. Perché quando una squadra è in difficoltà, chi è che cambia la vita e anche la mentalità della squadra? A volte l'allenatore, ma non sempre, in più delle volte invece il fuoriclasse, o quello che viene ritenuto e pagato come tale. Il fuoriclasse è quello che in un momento di sconforto, di sconcerto dei suoi compagni, prende un pallone, fa gol e ridà quella scarica di adrenalina che rilancia tutta la squadra. E quest'uomo dovrebbe essere Blauvic. Io torno a dire, Blauvic è un buon attaccante, a volte fa anche delle cose notevoli, ma continua a essere un attaccante che non recita la parte per cui è stato scritturato, cioè quello che ti cambia una partita. Blauvic ha fatto gol, sì, su un calcio di rigore, un calcio di rigore nato, peraltro non da un'azione di Blauvic, ha fatto un paio di spunti discreti, ma nulla più nel primo tempo, nel secondo tempo è naufragato, fino a mangiarsi un gol di testa solo davanti al portiere che avrebbe fatto la stragrande maggioranza dei suoi colleghi attaccanti. Allora torniamo al vecchio discorso. Se Blauvic, pagato 80 milioni di euro, il calciatore più pagato della Serie A, è un attaccante che però poi si perde spesso e volentieri, che magari fa due partite belle e poi in altre scompare, non puoi pensare che questa squadra vinca lo scudetto. E questo è sicuramente un attenuante per Allegri. Non diciamo che il problema è soltanto tattico perché il povero Blauvic e il povero Chiesa non hanno i palloni per poter fare gol. Non è vero, non è così. Chiesa che subentra a due palle gol in area, in piena area di rigore, in cui può calciare liberamente e una tira alto sulla traversa, l'altra invece si fa parare il tiro da Montipò da posizione molto favorevole. Ecco, voi pensate che Blauvic e Chiesa, che sono state le due operazioni più costose della Juventus, in assoluto per stipendio e per cartellino che è stato pagato, sono stati sostanzialmente, siamo al secondo anno compiuto e più da Blauvic, e al terzo anno e mezzo di Chiesa, sono state una delusione. Non hanno mai reso per quanto ci si aspettava e soprattutto per quanto sono stati pagati. Abbiamo fatto un calcolo, sapete quanto Blauvic è costato alla Juventus per partita giocata? 1.900.000 euro, tra costo del cartellino e stipendio. Sapete quanto è costato Chiesa? 1.200.000 euro. Il contributo di Chiesa in questi tre anni è stato di 10 gol. Blauvic ne ha fatti 35, ma quando uno pensa a Blauvic in due campionati e mezzo, e paga un giocatore quella cifra, e gli dà l'anno prossimo 12 milioni di netti all'anno, non si aspetta che sia un calciatore che fa almeno 20 gol a stagione. 20 gol a stagione vorrebbe dire che Blauvic, dopo due anni e mezzo, non dovrebbe essere a 35 gol, dovrebbe essere a 55 gol. Ecco che se noi cominciamo a pensare che Blauvic e Chiesa non siano due giocatori strepitosi fuori classe, ma siano semplicemente due buoni attaccanti, che a volte funzionano, a volte no, ma possiamo anche capire che la Juventus, che alle spalle di Blauvic e Chiesa, gioca con Gatti, con Cambiaso, che nel Verona non era considerato di Alma Santos, gioca a volte con Miretti, con McKennie, scusate nel Bologna, non nel Verona naturalmente, Cambiaso, Miretti, che è un giocatore della Next Generation, gioca con Danilo, che è un buon giocatore di lungo corso brasiliano, ma nulla più, gioca con Rugani, e potete anche capire che una squadra che non ha delle eccellenze straordinarie in campo, se non ha due eccellenze strapagate, almeno in attacco, faccia molta fatica a vincere. Chiudiamo con Chiesny. Chiesny ha preso un gol che non doveva prendere sotto le gambe. E allora qui dobbiamo fare un piccolo riassunto. La Juventus pareggia 2-2, con i suoi due attaccanti che falliscono la prestazione, il portiere che prende un gol sotto le gambe, e l'altro gol è frutto di un tiro strepitoso al volo che probabilmente Floro Ruscio nella sua vita non ripeterà mai più. Questa non è una giustificazione per Allegri, perché Allegri comunque in questo tragitto di quattro partite, tra le quali molto facili, avrebbe dovuto trovare il modo per vincere di più. Quindi Allegri è colpevole, ma non dimentichiamo che colpevole quanto lui, se non più di lui, ci sono anche alcuni giocatori che sono pagati per fare la differenza a prescindere e che raramente riescono a farla. Finché noi vivremo questa contraddizione della Juventus, la Juventus non sarà mai una squadra che vincerà, con o senza Allegri in panchina, con Conte o senza Conte, non mi stupirei se Conte arrivando facesse un grosso repulistico, allora dovesse davvero arrivare Conte alla Juventus. Chiudiamo però dicendo anche questo, la Juventus oggi è una squadra che deve ricostruirsi profondamente e avere soprattutto su interno giocatori che sappiano soffrire e essere determinanti, in attacco innanzitutto. E da questo punto di vista, il Chiesa che abbiamo visto anche ieri, il Chiesa che guadagna da anni 5 milioni netti per giocare poche partite, non per colpa sua, ma per i fortuni che comunque sono capitati a lui, e che dice io non rinnovo per meno di 7 milioni di euro, è un Chiesa, a mio modesto avviso, che può anche essere lasciato andare altrove. Grazie.